Musica Nuova puntata della notizia in comune, do il benvenuto al professor Carmine Antropoli che è il direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Salute della Donna presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Benvenuto professore. Grazie dell'invito, grazie. Salute ai telespettatori. Allora, entriamo subito nel vivo dell'argomento. Oggi chirurgia generale è una branca importantissima, ma soprattutto ha tante declinazioni perché la scienza è andata avanti, il chirurgo resta una figura fondamentale e tuttavia si avvale di strumenti totalmente innovativi, professore. Sì, indubbiamente rispetto a qualche anno fa, diciamo, specialmente negli ultimi anni si sono fatti dei progressi da gigante. Oggi prima avevamo solamente le mani del chirurgo, il bisturi, le forbici e i punti. Oggi abbiamo a disposizione una serie di strumentazioni che sono fondamentali come per esempio per la cauterizzazione, per serrare i vasi, per chiudere i vasi, per far capire i telespettatori. Abbiamo a disposizione strumenti a radiofrequenza, ad ultrasuoni. Abbiamo a disposizione ancora tutte le tecniche mininvasivi, la laparoscopia, la robotica, che comunque avanzano fortemente in sanità e molti interventi che prima si facevano con un grosso taglio, prima si diceva grande taglio, grande chirurgo, in realtà ora si è invertito questo assioma, questo piccolo taglio, grande chirurgo, nel senso che quando più l'intervento si riesce a fare con tecnica mininvasiva, più si riesce a preservare anche la funzionalità della parete addominale, quindi di una parte importante del corpo umano, che prima invece veniva complaceramente incisa. Allora, preservare quindi una parte del corpo umano, ma soprattutto evitare tutte quelle che sono le complicanze post-operatorie, quindi ci sono tantissimi fattori per cui si sceglie una chirurgia mininvasiva. Lei professore ci ha dato, ci ha fornito, delle immagini su un intervento all'avanguardia di robotica. Da Vinci, da voi, è di casa, fate tantissimi interventi, il Cardarelli è davvero, fa scuola, è pioniere in questo caso, stiamo vedendo un intervento al retto. Sì. Il robot. Come si può vedere, questo intervento è fatto con tecniche, come dicevo lei, con robot da Vinci, che ha una piattaforma dove il chirurgo si siede, fondamentalmente sta anche più comodo da un certo punto di vista, mentre invece poi ci sono dei bracci meccanici che vengono mossi dal chirurgo con un joystick, quindi si opera, quindi si coagula, si sutura, si sezionano le parti anatomiche, si regano le arterie e quindi diventa tutto diciamo più semplice, più anatomico e fondamentalmente più rispettoso proprio dell'anatomia del paziente. Prima di affrontare il prossimo step, che è l'intelligenza artificiale, impiegata alla scienza, tra l'altro è ormai cosa acclarata e risaputa che l'intelligenza artificiale, soprattutto in medicina e in biologia, praticamente è veramente affidabile, non soltanto per la diagnosi, per la proniosi, ma è ormai diciamo una scienza più che esatta. Vogliamo parlare un po' dei numeri del Cardarelli, cioè lei è direttore di un dipartimento che abbraccia una branca enorme e parliamo di chirurgia generale, ma voi salvate vite? Allora noi nel nostro dipartimento abbiamo quattro divisioni di chirurgia generale, una che fa fondamentalmente chirurgia oncologica e che sarebbe la chirurgia gastroenterologica, un'altra sempre chirurgia generale a indirizzo gastroenterologico, un'altra chirurgia del pancreas, poi abbiamo la chirurgia epatobaliare tra pianti di fecato e poi ancora abbiamo quello di un altro dipartimento che è la chirurgia d'urgenza, che lavora, fa parte di un altro dipartimento, ma comunque è una chirurgia generale che lavora proprio con l'urgenza e l'emergenza quelle che arrivano in pronto soccorso. Poi abbiamo delle strutture dipartimentali che fanno l'obesità, quindi è l'unica struttura pubblica che tratta l'obesità, il Cardarelli, e ancora la senologia che è l'avanguardia, quindi ci vengono operati oltre 600 tumori all'anno in senologia e questo è molto importante proprio per la salute della donna. Lei infatti ci ha tenuto sempre a dire che io sono anche direttore del Dipartimento della Salute della Donna. E la ginecologia in sé per sé che quindi tratta non solo i tumori e quindi le patologie benigne della sfera genitale femminile, ma anche i parti che arrivano, quelli più complicati, arrivano a Cardarelli. Professore, perché i tumori di oggi sono diventati così aggressivi? Sono diventati così... Ma più che oggi così aggressivi dico che oggi invece si fa una diagnosi precoce e quindi riusciamo a curarli maggiormente questi tumori rispetto a tanti anni fa. Tanti anni fa la gente moriva e non si sapeva perché, meno perché morisse. Quindi questa è una chiave di lettura importante? Secondo me sì, secondo me sì. Per molti dei pazienti, specialmente nel corretto che noi operiamo, stanno bene. Molto dipende dalla prognosi, cioè dallo stato in cui noi facciamo la diagnosi. Durante il Covid, per esempio, appena dopo il Covid abbiamo avuto tumori che stavano in fase più avanzata perché si sono fermati gli screening. Questo non solo per il colorretto, per lo stomaco, ma anche per la mammella. Vedevamo a un certo punto tumori più avanzati. Perché gli screening, se erano fermati, la gente non andava più in ospedale e quindi i tumori crescevano e abbiamo dovuto trattare poi tumori che sono stati più avanzati. L'intelligenza artificiale, dicevamo. L'intelligenza artificiale troverà un... Già... La realtà. Già è una realtà. Fondamentalmente, in chirurgia generale, riesce sempre più a mettere in sintesi quelli che sono le tecnologie con la diagnostica. Cioè, comparare tante variante anatomiche, comparare tanti algoritmi di interventi stessi, faciliterà ancora la funzione del chirurgo. Però il chirurgo, in sé per sé, resterà sempre al centro della cura della persona. Quindi l'intelligenza artificiale può avere impieghi molteplici? Molteplici, specialmente in altri settori della medicina, come la genetica, la creazione di farmaci specifici per una singola malattia. Cioè, il farmaco per quella persona. Quindi... Quindi non per curare la patologia, ma per la persona. Per la persona stessa. Quindi siamo proprio veramente... Insomma, non soltanto la longevità, perché la vita media si è allungata, ma l'obiettivo a questo punto è garantire anche una buona qualità della vita. Una buona qualità della vita. Ecco, la chirurgia al servizio del paziente. Il Cardarelli ogni anno effetta un... Nel dipartimento nostro facciamo oltre, penso intorno ai 6.000 interventi chirurgici. 6.000 interventi? 6.000 interventi chirurgici. Trattiamo... Perché scegliere il sud, professore? Perché spesso e volentieri c'è questa moda che persiste di andare altrui. Ma si è ridotto sensibilmente, a meno degli ultimi dati Agenas, ci sono delle migrazioni per l'obesità, per alcune patologie retiniche, oculari, quindi, ma non per la chirurgia in generale. La chirurgia si opera al sud. Allora, un'altra domanda che spesso ci fanno da casa. Allora, come si interviene in determinate patologie come appunto il colon, che oggi è diventata una... il tumore al colon è diventato una realtà per molte... anche la prevenzione forse è difficile. Ma si può... Gli screening... Ecco, innanzitutto, quando bisogna cominciare a fare degli screening? A che età, professore? Secondo me... Cioè, gli screening bisogna iniziare a fare a 50 anni. A 50 anni. A 50 anni. Ma se uno ha una familiarità, ad esempio per il cancro del coloretto, anche prima, è consigliabile fare comunque una ricerca di sangue occulto nelle piste. Ma possono... farsi una coloscopia, perché scoprire un polipo in fase iniziale che poi può avere una degenerazione, vuol dire non solo salvarsi la vita, ma anche evitare un intervento chirurgico. Ma possono alcune patologie degenerare, ad esempio croniche? Degenerare nel senso... Certo, un polipo cresce, 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 parte da quella che noi definiamo una displasia lieve, poi diventa una displasia media o moderata, e poi grave, quindi cancro. Quindi immaginate se questo polipo viene bonificato endoscopicamente, quindi evitando un intervento chirurgico più invasivo, quel paziente guarisce prima. Guarisce. Poi chiaramente deve fare dei controlli, perché se quel colon ha una predisposizione a produrre polipi, si devono fare dei controlli. Il paziente lo sa e quindi evita, si fa i controlli, evita che questo polipo possa degenerarsi e quindi trasformarsi. Quindi controlli dai 50 anni in poi per quanto riguarda il colon. È consigliabile. Invece, lei che si occupa anche della salute della donna, anche purtroppo l'età del cancro al seno si è abbassata notevolmente. Si è abbassa, in parte si è abbassa, in parte ci sono anche tutte quelle donne che non riescono ad avere figli e fanno delle stimolazioni, là si facilita la possibilità di avere un cancro al seno. E chi fa interventi estetici ha la possibilità di sviluppare più tumori per le protesi, ad esempio, mammarie? A meno per cui... Cioè, non faccio chirurgia senologica, ma non mi risulta questo. Onestamente non mi risulta. Però la prevenzione resta comunque... Fondamentale. ...l'aspetto della salute. Allora, un'altra domanda importante è il pancreas. Si dice che in futuro sarà tra le cause di morte, insomma, tra i primi posti per causa di morte. Una malattia subdola, tra le altre cose, è difficile anche da diagnosticare. Ovvero, si arriva alla diagnosi quando... Quando ci si arriva alla diagnosi quando purtroppo già ci sono i sintomi. Quindi già ci sono sintomi e quando ci sono i sintomi la malattia risulta essere già avanzata. Quindi, da questo punto di vista, quindi, l'intervento chirurgico non può essere totalmente radicale perché la malattia è già diventata una malattia sistemica. Quindi, bisogna essere fortunati nel cercare di fare una diagnosi quanto prima è possibile in modo tale che le metastasi di per sé non sono già partite. Allora, la gestione del paziente anziano, professore, ecco, voi riuscite, chiaramente, parlando anche di chirurgia mini-invasiva, si riesce anche ad ottimizzare i tempi, no? Per evitare degenze troppo lunghe e cercare anche di venire incontro a quelle che sono le esigenze di un paziente anziano che forse è più difficile da gestire rispetto a uno giovane, no? Per tanti motivi. che la gestione di un paziente anziano è una gestione multidisciplinare perché oltre ad avere il paziente ha la patologia chirurgica. Io mi riferisco sempre a Cardarelli, ovviamente. Perché si rivolge al chirurgo e quindi ha una patologia chirurgica che deve essere trattata e ha generalmente anche delle comorbidità, ha problemi cardiaci, ha problemi di insufficienza respiratoria, ha problemi renali, può avere diversi tipi di problemi per cui noi con la nostra terapia intensiva riesciamo generalmente sempre a interagire, sappiamo già prima perché prima di portare un paziente al tavolo operatorio noi sappiamo già quali sono le comorbidità che ha. L'anestesia, un altro fattore che inquieta moltissimo il paziente. Fondamentale, però. L'anestesia spaventa tutti. Quando parliamo di anestesia generale poi andiamo nel falone più totale. L'anestesia è un ruolo fondamentale per la chirurgia ma non solo, per il paziente per il dolore post-operatore. Ma si opera sempre in anestesia generale? No, 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 ci sono degli interventi tipo interventi di ernia o altri interventi che vanno fatti in anestesia spinale e altri vanno fatti in anestesia generale quando sono gli interventi più grossi ma anche là c'è un grosso avanzamento delle tecniche e delle anestesiologiche che consentono sempre di mettere in sicurezza quanto più il paziente. Un altro aspetto è la spesso c'è la possibilità di contrarre patologie in sala operatoria c'è le infezioni ospedaliere infezioni ospedaliere questo può capitare che ci sono cose che ci cade ma che accade professore continua ad accadere perché sono diventati più forti i batteri in poi i batteri sono diventati più forti in poi il turnover dei pazienti noi cerchiamo di ridurre al massimo queste possibilità cioè queste infezioni però anche pazienti immunodepressi che diciamo facilmente vengono infettati quindi anche qua la situazione è multifattoriale non è non è semplice da affrontare dal covid adesso sono passati cioè esiste ancora il covid però diciamo quella non ci paventa più almeno quello di allora quel momento apocalittico insomma di 4 anni fa 3 anni fa insomma sembra passato com'è cambiata la chirurgia voi per un periodo di tempo siete stati costretti noi non eravamo fermi noi abbiamo eh raccontiamo noi abbiamo lavorato sempre specialmente durante il covid e abbiamo fatto delle cose che ci hanno dato anche delle grandi soddisfazioni nel senso che racconto un caso che qui sono particolarmente legato quando c'era il covid l'ospedale del Cardarelli abbiamo quasi trasformato tutto in covid abbiamo ridotto i posti letti abbiamo ridotto i reparti abbiamo fatto spazio al covid e i nostri medici i nostri chirurghi eh i nostri tutti quanti andavano a fare i turni nel covid una mattina eh un collega ha fatto un turno al covid mi dice il dottore Foroni mi dice il direttore nel covid c'è una ragazza di 30 anni che ha tre figli eh c'ha un ascesso addominale ha fatto un RCP abbastanza importante con una perforazione duodenale eh e ha una polmonita da covid dobbiamo vedere che fare altrimenti muore chiamai i colleghi radiologi andammo a vedere chiaramente vestendoci come ci dovevamo vestire all'epoca con tutte le tute tutela all'interno chiamai un collega venne un collega ecografista bravo guardammo studiamo benadacco studiamo la paziente e capimmo che non si poteva addormentare e in anestesia locale facevamo delle 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 anestesie sull'addome là dove c'era l'ascesso intra-addominale mettevamo dei drenaggi all'interno dell'addome abbiamo drenato oltre un litro e mezzo di pus e lentamente poi la paziente è stata bene se n'è andato dopo due mesi sempre per il problema polmonare però fortunatamente si è salvata perché quindi voglio dire ci ha messo la mano il signore sicuramente noi abbiamo fatto la nostra piccola parte però è stata una grande parte una grande sfida è stata una grande soddisfazione perché non si poteva addormentare non si poteva fare nulla e la signora era forte e quindi ce l'abbiamo fatta quindi avete si ha curato la polmonite da covid si aveva avete curato si curava la polmonite da covid ma il problema era diventato l'ascesso intra-addominale perché aveva avuto una pancreatite che poi aveva delle febbre a tolci febbre diciamo miste tra polmonite chiaramente ascesso intra-addominale con l'ecografista vedevamo dove stavano le raccolte e con un po' di fortuna non abbiamo bucato l'ansia intestinale abbiamo drenato solamente il pusso all'esterno allora siamo quasi verso la fine della nostra chiacchierata il futuro cosa ci aspetta anche parlando delle nostre eccellenze no? campane napoletane perché evidentemente abbiamo visto che qua si fa tanto no diciamo il futuro è un futuro dove la sanità come abbiamo detto prima sarà sempre più tecnologica dove i giovani avremo una situazione inversa secondo me mentre la mia generazione è una generazione che partiva con la chirurgia open ad esempio partiva con la chirurgia open poi lentamente siamo diventati laparoscopisti e poi dopo ci siamo adattati alla robotica ma abbiamo una visione completa di come trattare il paziente perché poi non tutti i pazienti si possono fare con tecniche mininvasive molti pazienti devono essere operati anche come diciamo con tecnica open perché hanno semmai un grosso tumore un tumore che infiltra più organi che hanno diciamo telecomodibilità per cui non possono fare il primo peritoneo quindi le nuove generazioni invece fanno meno diciamo di questo percorso formativo per cui dobbiamo stare attenti e poi abbiamo un'altra problematica abbiamo nell'ambito della chirurgia una crisi di vocazione ecco infatti voleva arrivare qui una crisi di vocazione per cui i giovani è una crisi di vocazione oppure perché si ha paura di tante cose tipo le aggressioni negli ospedali l'intervento non viene bene la paura di cause allora non possiamo pagare secondo me un giovane che vuole fare chirurgo che sta in pronto soccorso uguale a un altro medico che è molto più protetto gli dobbiamo dare un incentivo economico perché poi il percorso formativo per diventare chirurgo è un percorso che dura molti molti anni in più ma molti molti anni in più non è facile imparare e non è facile e quindi mentre 30 anni fa 40 anni fa tutti volevano approcciarsi alla chirurgia oggi quando si fa un concorso di specializzazione per entrare in specializzazione purtroppo devo dire che chi va e decide di fare chirurgo è quelli che non hanno vinto il concorso in altre branche perfetto quindi bisogna incoraggiare bisogna incoraggiare anche economicamente anche economicamente perché è giusto perché è giusto perché è giusto grazie grazie a voi che ci avete seguito e allora vi do appuntamento alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti